C'era una volta incastonata tra mare e cielo un'isola rigogliosa e accogliente ma un giorno su di essa sbarcò un manipolo di uomini e di donne armati di strani strumenti non rivelarono ad alcuno le loro intenzioni e misteriosamente si misero all'opera in molti giurarono di averli intravisti nessuno seppe dire che cosa stessero facendo questo è il racconto della loro impresa e di come nacque elba il film benvenuti a the secrets of elba il backstage ciao io sono francesca delicaoni e siamo qui a dare gli ultimi ritocchi alla webserie più ficca dell'universo elba volete sapere di più seguitemi elba o come la chiamavano gli antichi naviganti greci e tali elba è un film o meglio un film condensato in mezz'ora e che vedrete suddiviso in episodi sul web ma che noi abbiamo veramente pensato realizzato e patito come un film siamo qui appunto al big wave studio con nico e stiamo finalizzando l'audio 5.1 la morte è un progetto che parte da due persone folli che sono andrea rossi e morizio ghez che un giorno di dicembre si sono presentate da noi a Livorno dicendoci ciao riccaoni ci occupiamo di turismo e stiamo lavorando per l'isola d'elba ce lo fate un film basta che ci sia napoleone per il resto avete carta bianca questo è il budget dei pazzi che si rivolgono altri pazzi per un progetto ambizioso cosa potevamo rispondere il lavoro di scrittore è stato bello siamo partiti dal paletto iniziale ossia la figura di napoleone in particolare il suo periodo di esilio all'elba abbiamo letto studiato ci siamo appassionati poi nell'acrofondire questo personaggio storico e ovviamente quello che ci interessava era l'uomo napoleone e poi abbiamo preso la tangente sì perché elba ecco non è proprio un film storico prendiamo un'avventura la indiana jones con misteriosi reperti archeologici frulliamola con i paradossi temporali alla ritorno al futuro uno scambio di personalità alla freaky friday e già che ci siamo buttiamoci nel mezzo un mostro mitologico etrusco che vuole distruggere l'universo e abbiamo elba più o meno scrivere è stato parecchio divertente azione almeno per gli spazi che non fanno sul lavoro la carriera è dito a quello meno dito c'è ancora io non l'ho detto da me non l'ho detto non l'ho detto è speso no non l'ho detto non troppo barbuso e la camettiera o dentro se dentro si gli dava il bello da questo punto di vista è stato poter spaziare tra stili differenti da look contemporanei dei protagonisti ai costumi storici ottocenteschi anche mescolandogli un passione per creare lo stile di leonardo napoleone con l'onipresente ape imperiale che è una rilaborazione fatta da bloccature o una maglietta bloccature pari timodio di dumbo poi ovviamente sui personaggi mitologici fantastici evelina ha veramente dato il meglio di sé tutti i confezionati da lei sono ovviamente straordinari e nel mentre che le idee prendevano forma ovviamente abbiamo studiato a fondo e anche visitato quella che è la quateronista nemmeno troppo occulta di questa storia che è ovviamente l'isola d'elba i soprallori sono stati vitali non solo per poter trovare le location più adatte ma proprio per arricchire la storia per calarci noi stessi al suo interno e dare spessore reale ai personaggi vi dico solo che la nostra guida Stefano Luzzetti e il Bano Doc di Capoliveri che ci ha condotto proprio alla scoperta dell'isola ha avuto un ruolo centrale in questo senso diciamo che il leonardo della nostra storia fa di secondo nome Stefano ci ha fatto innamorare dell'elba lui e poi abbiamo buttato giù una bozza di sceneggiatura e poi l'abbiamo riscritta quando abbiamo conosciuto lui ma addirittura le battute cioè i tuoi nonni sono di Pumonte hanno fatto i viaggi nozzi a Lio Marina e non hanno mai abbandonato l'elba questo è il problema questo ce l'ha detta lui e tra l'altro se non avessimo conosciuto te saremmo andato a fare questo video in Corsica e quindi azione la protagonista della storia è Sara una giovane elbana che vive la situazione dell'isola come un esilio e vorrebbe infatti scappare in Francia Leonardo è il suo fidanzato che invece è tutto l'opposto fatto sta che per queste antiche magagne etrusche SPAM Napoleone del 1814 finisce nel corpo di Leonardo e viceversa se Leo non si fa trovare lì è la porta buona che lo mela davvero ma io non so Leo, sono Napoleone cioè che è Leo che poi... sono Napoleleu per il doppio ruolo di Leonardo Napoleone non poteva che esserci uno e un solo nome Guglielmo Favilla partire col piede giusto siamo contenti siamo on the road e abbiamo anche la palla Guglielmo è un licaone fondatore presente in tutti i lavori e soprattutto è un ottore straordinario ma di quelli bravi bravi come pochi serve stato perfetto per dar vita a questo scambio dal buono e un po' brodo Leonardo al fiero imperatore in effetti così è stato si dice infatti che dopo aver assaggiato anche un solo goccio il nostro oleatico nessuno vuole più tornare in Europa e riprendersi quello che era suo brava, non piaccia cosa ti parlo? questi hanno fatto i chilometri la scelta della protagonista invece ha richiesto più tempo c'è stato un casting online eravamo alla ricerca della nostra Sara abbiamo rivoltato il web come un calzino per trovare l'interprete perfetta per questo ruolo abbiamo scoperto tantissimi talenti ma veramente tanti e alla fine l'abbiamo trovata Margherita Coppola un'attrice eccezionale napoletana ma scappata a lavorare a Parigi esattamente come Sara fin dal provino che ci ha mandato come si muoveva come parlava era perfetta ricomincia e il banodoc duro come il ferro te lo ripeto un'ultima volta mia la vita mie le decisioni libero arbitri scelta a distanza l'abbiamo incontrata in ciccio una settimana prima delle riprese e alla fine è stata una scommessa vinta perché Margherita è stata strepitosa a Federico Mariotti bravissimo attore toscano che già conoscevamo ma col quale non avevamo ancora collaborato il compito è l'onore o l'onere di interpretare Napoleone del 1814 mentre l'area di Luca è Tesan ruolo centrale di cui non sveglio niente per non fare spoilers però è stata ovviamente eccezionale Ilaria lascia sempre senza parole sia quando è sul palco teatrale che in un video è bevissimo pronto il cast per portare a casa un progetto così ambizioso una troupe non bastava avevamo bisogno di un green team la troupe della vita come l'Icarone siamo attivi da 15 anni inizialmente un gruppo di amici appassionati di cinema che hanno mosso assieme i primi passi prima un po' per il gioco e poi credendoci sempre di più con gli anni molte strade vabbè si sono divise ma in tanti hanno trasformato questa passione in un lavoro vero e proprio e sono diventati dei professionisti quotati ecco con Elba abbiamo avuto la possibilità di dire ragazzi è il nostro momento ragioniamoci tutti quanti e facciamo i culi mi ha tolto le parole di Bo uomini e donne di comprovata fiducia e talento e con cui divertirsi anche parecchio e questo solo in preproduzione perché è nei 9 giorni di delirio e delle riprese che il Dream Team è diventato pienamente operativo sapevamo benissimo di avere davanti un'occasione più unica che rara contenti e carichi per l'esperienza umana di condivisione con amici e quindi questo connubio molto particolare e unico che raramente si verifica in questo tipo di ambiente in questo tipo di lavoro per cui lavori faticando ma divertendoti pronta Cecilia? motore e azioni! e per oggi abbiamo finito a presto! a presto! a presto! a presto! a presto!